ciao e questo qua secondo video io sono entrata per a parlare di quei prodotti che sono usato no no che io ho usato scusami perché ho sbagliato grammatica e niente che perché la mia sorella che lei è la farmacista no no è un medica medico che ha fatto proprio la farmacista in thailandia ha mandato qualunque prodotto qualche prodotti per me per la diventa bianca a me piace bianca però non ti fa pericolosa solo che qualcosa buono i dottori anche ci dà ti fa proprio detto che ti fa molto bene non ti fa non ti fa male perché proprio la vitamina ci sono collagene ci sono tante vitamine dentro però io adesso che ho preso ho preso proprio collagene perché collagene ti fanno proprio bene per elevare le rughe sulla faccia la prima io ci sono tantissimo adesso ti guardati adesso non c'è proprio quasi andati via sono andati via non tutti però allora è solo così entrata per dirti vi se qualun qualche persona che vorrei andare o andare comprare o sta cercando qualcosa bella ti fa bene sulla faccia o la coppa collagene ti fa proprio bene e poi ci sono anche questo qua allora questo qua che io ho preso appena preso però ti sento proprio benissimo molto bene per la chi piacere dormire tardi black mo black mo si può trovare anche in qua in italia questo qua l'ho mandato proprio la mia mia sorella guarda c'è anche la lingua è mia thailandese questo qua black mo dentro non so come si chiama ingrediente giusto ci sono uve le fanno con uve uve dentro perché uve ti uve danno molto di vitamina b ti fa molto bene ci correre bene sul sangue e anche chi ha puntini neri va via veloce bene anche va benissimo anche per la persona che piace dormire tardi io sono entrata per parlare solo questo qua sulla medicina magari questo video quello io ho già parlato magari che vi dato qualche idea bene per chi che piace cercare qualcosa per quelle che sta bene per la coppa o per la faccia io solo consiglio un consiglio di questo qua allora adesso vado proprio a nanna e perché domani c'è anche la scuola per un corso italiano proprio se qua se qualche parola che io ho parlato male e voi non capite mi scusate proprio perché non è proprio la mia lingua è difficilissimo per me per parlare per capire bene adesso ciao ciao e salute tutti a salute a tutta gente che entrano per vedere la mia video grazie grazie tutte persone che che fatto che fatto follow la mia video la mia la mia profilo grazie e vi saluti tutti ciao ciao buonanotte ciao